Musica Intelligenza artificiale e lavoro. Incontro oggi in Camera di Commercio a Verona con l'iniziativa Orientiamoci Insieme, rivolta agli studenti delle classi quarta e quinta superiore. Sono 300 i casi in questi ultimi tempi di assistenza telefonica ai cittadini del Suam 118 in attesa dell'arrivo dei soccorsi, tra la casistica, parti, infarti, amputazioni e disostruzioni. Torna a Verona Libro Orchestra con incontri e spettacoli fino al 22 aprile. Il 21 aprile a Santa Teresa l'inaugurazione del centro dedicato al maestro Alberto Manzi, divulgatore televisivo a 100 anni dalla nascita. Ben trovati a tutti voi in questo appuntamento con Telepace News. In apertura, come sempre, la pagina ecclesiale. Dopo fortezza, giustizia e prudenza, l'udienza generale, oggi Papa Francesco, ha invitato a riflettere sulla quarta virtù cardinale. Si sposa bene con gli atteggiamenti evangelici della piccolezza e dell'amitezza. Non rende grigia la persona, detto anzi le porta gioia perché fa gustare meglio i beni della vita. Ascoltiamo quanto ha detto Papa Francesco. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la propria forza, assecondando i desideri del proprio cuore. Dunque, la temperanza, come dice la parola italiana, è la virtù della giusta misura. In ogni situazione si comporta con saggezza perché le persone che agiscono mosse sempre dall'impeto o dall'esuberanza alla fine sono inaffidabili. Le persone senza temperanza sono inaffidabili sempre. In un mondo dove tanta gente si vanta di dire quello che pensa, la persona temperante preferisce invece pensare quello che dice. Capite la differenza? Non dire quello che mi viene in mente così, no. pensare quello che devo dire. A fine udienza generale il Papa ha ricordato le popolazioni di Terra Santa e Ucraina piegate dai conflitti e ha lanciato un appello per chi è vittima di torture che feriscono, ha detto, la dignità della persona. Passiamo alla pagina locale. Come orientare i ragazzi delle scuole del futuro sul lavoro? Compatibilmente con le opportunità e le sfide lanciate dall'intelligenza artificiale, se ne è parlato oggi in Camera di Commercio a Verona con l'iniziativa Orientiamoci Insieme, rivolta agli studenti delle classi quarta e quinta superiore. Ce ne parla Marina Zerman. 300 ragazzi di numerose scuole veronesi hanno partecipato questa mattina all'incontro promosso da Camera di Commercio e Oriente a Verona per aiutare gli studenti di quarta e quinta superiore nelle loro scelte future. È importante che conoscano le loro caratteristiche, le caratteristiche del mercato del lavoro e anche per avvicinarsi e comprendere le caratteristiche dell'università, comprenderne i linguaggi, le tempistiche, le scadenze, le terminologie che caratterizzano proprio un ambiente che per loro è nuovo. Faccio alcuni esempi di cui parleremo oggi, per esempio, cos'è un CFU, un credito formativo universitario, cos'è un TOLC, cioè il test online per essere ammessi ai corsi di laurea a numero programmato. Oggi più che mai, anche con le nuove linee guida per l'orientamento, si sta cercando di comprendere e di mettere in pratica proprio il fatto che l'orientamento è fondamentale nella scuola, deve entrare nella didattica e deve essere un mandato comune, una mission proprio. Dalle nuove competenze all'intelligenza artificiale, da come preparare un curriculum alla possibilità di essere imprenditori di se stessi, questi alcuni dei temi affrontati. Per il futuro un ragazzo o una ragazza penso appunto alla strada del lavoro dipendente perché è la via professionale più abituale, quella più normale, diciamo così, tra virgolette. Oggi invece tratteremo e farò vedere appunto in sintesi quella che è una via professionale altra, che è appunto quella della via professionale autonoma, quindi mettersi in proprio, diventare imprenditrice, diventare imprenditore. Sicuramente il colloquio di lavoro è fondamentale, è fondamentale saperlo affrontare nel modo corretto. Oggi daremo alcuni spunti ai ragazzi su come presentarsi ad un colloquio di lavoro e soprattutto arrivare preparati con un curriculum vitae scritto nel modo corretto. L'intelligenza artificiale è una skill, è un'abilità che bisogna acquisire per essere competitivi, cioè solo per avere un curriculum da poter presentare, è un po' come l'impatto dei computer. Ci sono sicuramente delle professioni che oggi non possono essere svolte senza il computer, però una persona che sceglie di intraprendere un percorso di carriera, qualsiasi esso sia, senza avere quelle skill, sa già che si mette in una corsia abbastanza difficile da affrontare. Ed ora parliamo di turismo. 18,8 milioni di presenze di turisti registrate nello scorso anno a Verona, con un aumento del 9,8% rispetto al 2022. Superate le cifre pre-pandemia. Questa mattina Marina Zarmann ha sentito Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio di Verona, in particolare sull'aspetto del turismo religioso. Sentiamo. Si sta facendo anche un gran lavoro con la Regione Veneto. Devo dire che dobbiamo come territorio sempre ringraziare, in particolare l'assessore Caner, Stefan Marchioro e Mauro Vitti, con i quali insieme abbiamo costituito la fondazione e hanno iniziato, presentato circa otto mesi fa, i cammini. Fra questi cammini ci sono tutta una serie di cammini religiosi che attraversano anche il nostro territorio e mettono in evidenza che cosa da Chiese Vive a Minor Jerusalem, al Santuario di Madonna della Corona, al Santuario qui a Verona. Quindi tutto ciò che può essere sia per il turista religioso, ma anche per il turista in generale, un attrattore, un momento per trovare anche che cosa, oltre cultura, oltre arte, oltre a bellezza, ha anche una tranquillità dello spirito, una pace che, devo dire, il nostro territorio riesce a garantire. E domattina all'Azire ci sarà la presentazione dei nuovi itinerari creati da una fondazione istituita tra diversi partner, tra cui Camera di Commercio e Diocesi di Verona. Vini Italy archivia oggi la 56esima edizione con 97.000 presenze, il leggero incremento degli operatori esteri da 140 paesi a quota 30.070, 31% sul totale. Bilancio positivo anche per Vini Italy Plus, la piattaforma di incontro tra domanda e offerta, con 20.000 appuntamenti business raddoppiati in questa edizione. E per il fuori salone Vini Italy and the City, che ha superato le 50.000 degustazioni, più 11% rispetto alla passata edizione. Sul fronte delle presenze estere, gli Stati Uniti si confermano in pole position con un contingente di 3.700 operatori presenti in fiera, più 8% rispetto all'anno scorso. Seguono poi Germania, Regno Unito, Cina e Canada, in aumento anche i buyer giapponesi. Quando c'è emergenza sanitaria si chiama il SUEM 118, che attiva i soccorsi. Ci sono 300 i casi in questi ultimi tempi dell'aiuto dato da remoto dagli operatori specializzati ai presenti sui luoghi degli incidenti, con indicazioni preziose che hanno salvato delle vite in attesa dell'arrivo dei soccorsi. L'ultimo caso con un parto teleguidato proprio questa notte. Vediamo. 118 il numero da comporre in caso di emergenza. Spesso però in attesa dell'ambulanza o dell'automedica, i presenti possono fare la differenza con manovre salvavita sotto la guida precisa degli infermieri al telefono dalla centrale operativa dei SUEM. Allora è prevista l'erogazione di quelle che si chiamano istruzione per arrivo, quindi vengono chiamate IPA in gergo tecnico, quindi servono per colmare quello che si chiama l'intervallo di terapia finché arriva sul posto il primo mezzo di soccorso e vengono erogate da personale infermieristico su determinate situazioni che sono già codificate e previste da un protocollo regionale di risposta che si chiama Dispacia regionale della Regione Veneto e vengono erogate durante i casi in cui viene identificato un arresto cardiaco, un'ostruzione delle vie aeree oppure in caso di un parto precipitoso. Quanti casi avete di questo tipo? Quanti ce ne sono stati di recente? Allora negli ultimi temesi sono state erogate all'incirca 300 istruzioni per arrivo, in particolare su 9 parti nel primo trimestre e su 19 parti durante l'anno scorso. Quanto è importante proprio questo lasso di tempo dall'avvio della richiesta all'arrivo poi del personale sanitario? Allora è un lasso di tempo importantissimo soprattutto in caso di arresto cardiaco perché è importante che venga effettuata la decompressione toracica e quindi il massaggio cardiaco in maniera precoce e continuativa finché arriva sul posto il primo mezzo di soccorso che poi prende in consegna il paziente. Negli ultimi anni la popolazione è diventata molto collaborativa e spesso l'intervento sul posto è determinante. Allora fortunatamente sempre di più, nel senso che con la preparazione che hanno gli infermieri presenti di centrale operativa si riesce proprio anche a catturare l'attenzione pur nella disperazione a volte dell'evento e sempre più spesso persone danno proprio una mano a chi ha bisogno in quel momento. Quali esiti favorevoli ci sono stati effettivamente sulle vostre indicazioni? Beh tanti, nel senso che io dico sempre è una presa in carico che comincia con la chiamata e termina poi quando il paziente viene dimesso dall'ospedale. E' chiaro che i primi minuti che sono i più coincitati a volte proprio fanno la differenza e quindi tanti sono gli esempi e fortunatamente sempre più frequenti dalle disostruzioni delle vie aere da corpo estraneo, a massaggi cardiaci e uso del fibrillatore fatto dagli astanti che hanno permesso di far ripartire quel cuore lì. E torna la quarta edizione di Libro Orchestra, il Festival itinerante nazionale dedicato alla lettura per l'infanzia, alla musica e all'ascolto della comunità educante. Quest'anno sarà dedicato ad Alberto Manzo a cent'anni della nascita di quella che fu una figura fondamentale per l'alfabetizzazione degli italiani nei primi anni della televisione. A Verona gli eventi si terranno da oggi fino al 22 aprile. Abbiamo sentito la direttrice della manifestazione culturale Elisabetta Garilli. Cosa consiste questa iniziativa? Allora, Libro Orchestra nasce quattro anni fa nel tempo della pandemia. nasce per continuare a dialogare con tutti i bambini e le bambine, i genitori, gli educatori, gli insegnanti, ma per fondere la letteratura per l'infanzia e la musica. La musica è il motore di ricerca, di incontro che va verso gli altri. Quest'anno nel titolo abbiamo messo musica, poesia, arte per la pace per i bambini. E ci tengo tantissimo a sottolineare questo perché senza pace non ci sono i bambini. E anche, è molto importante continuare a nominare come le forme d'arti non siano forme che abbraccino la guerra. Sono forme di non violenza. L'arte, la musica, la poesia accompagnano, incontrano e possono essere realmente ponti di pace. In cosa consiste l'iniziativa? Allora, è un festival itinerante, nazionale, che mette in rete tutti gli artisti, mette in rete una comunità educante che dialoga con altre comunità. Il nostro festival quest'anno è dedicato al maestro Alberto Manzi, al grande maestro d'Italia, e perciò tutti gli appuntamenti si svolgono costantemente in dialogo col suo sguardo educativo, in questo caso ovviamente nelle forme d'arte. Concludiamo con un evento importantissimo che è il 21 aprile all'interno del Teatro Santa Teresa in Borgo Roma, alle 17, portiamo in scena All the Way, aprirà il Centro Alberto Manzi, insomma, ed è la prima nazionale. Nel frattempo tantissimi altri incontri per le famiglie, per le scuole, nelle varie biblioteche, anche per mamme in dolce attesa, insomma, tantissimi appuntamenti. Parlare di disturbi dell'alimentazione usando il linguaggio dell'arte. In scena a Verona, dopo aver già raggiunto oltre 5.000 studenti del nord Italia, lo spettacolo La Voce, ideato da Carola Minincleri Colussi per Farmacia Zoe, compagnia teatrale indipendente fondata nel 2006 a Mestre e specializzata in spettacoli di teatro civile. L'appuntamento con ingresso gratuito è per domani alle 20.30, questo giovedì appunto al Teatro Stimate di Verona in via Montanari. Sono invitati in particolare gli adolescenti dai 14 anni in su, i loro genitori, educatori e professori e gli operatori dei servizi pubblici. Con questo è tutto, il nostro notiziario termina qui. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Telepace. Grazie per la visione!